Cari amici buonasera, anche questa sera voglio andare al ristorante della signora Amicetti in via dei gatti numero 10, perché si mangia bene, è un posto veramente carino e vi consiglio di andare a mangiare in questo ristorante, perché potete trovare ali di farfalle, ragnetti, tutte cose buone, adesso io vado, vediamo un po', la la la, la la la, signora Amicetti buonasera, buonasera, sono rivenuto qui per cenare, ho un po' fame veramente, ma scusi che cosa fa, che cos'è quella cosa, ho fame, mi posso accomodare, non mi chiedi quanti siamo, quanti siete, ma sono uno che non mi vedi, sono uno, una gamba sola, una gamba sola, ho perso una zampa, allora cosa posso mangiare questa sera signora Amicetti, vorrei mangiare, per favore, roba fresca e genuina, grilli, cavallette, ragnetti, no quelli non ce l'ho, grazie, un po' di farfalle, code di zanzara, le cose schifose ormai non ce l'ho più, allora voglio le antenne di lumaca per favore, no non ce l'ho più le cose schifose, allora per favore mi dica lei cosa posso mangiare, mamma mia quanto siamo, quanto sono complicati in questo ristorante, sono io che gli devo dire cosa, cosa, cosa hanno, menù, e che me lo tira il menù signora, non si mangia, devi scegliere, ma io non so leggere, ho fatto dieci volte l'asilo e ancora non ho imparato, devo, devo stare, perché queste sono, che cos'è qui, un gelato, quella foto è un gelato, allora un gelato per favore, e quale? Quello tutto colorato, vediamo un po', è legge, perché sennò sono tutti colorati, c'è scritto G, co, 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 quello lì voglio, G, co, co, non te lo do perché non esiste, scusi, ma che gelato posso mangiare allora? Quello che ti parla a te, ma lei li sembra giusto, che mentre io sto ordinando, lei sta giocando lì con, con l'orologio, con le cose, ma che cosa ha fatto? Lo slime sull'orologio, faccia vedere un po', ma cos'è questa schifezza? Ma che bello orologio, mi sa che non funzionerà più adesso, eh, con lo slime, tutte lucette colorate, senta, posso mangiare per favore? Ho fame, ho fame, voglio questo gelato al salame, non esiste, quindi non te lo do, non esiste, allora un gelato, quello lì, quello, 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 quello non te lo do, perché non so quale vuoi, quello, 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 allora questo qui è tutto nero, che cos'è? Un gelato? Vuol dire nero, al carbone, ma non te lo do, non è nero, qual è nero? Questo, questo qui, ma non è nero? Che colore ha? Verde. Verde? Verde? Ma veramente? Sì, sa tu che sei rincitrullito. Io sarei rincitrullito? Signor amicetti, io sono un cliente, vengo spesso a mangiare qua, non devo essere trattato male, capito? Sì. Allora? Brutto testa di gallina rincitrullito. Ma come si permette? Allora, senta, io me ne vado via e non vengo più, va bene? No. Addio. Dirò a tutti i pappagalli del mondo di non venire a mangiare qui. È questo che vuole? Tiè, neanche mi ascolta. Vabbè, ti saluto. Mamma mia! Scusate l'interruzione.